buongiorno a tutti oggi faremo una nail art relativamente facile e veloce che raffigura degli animaletti che sembreranno appesi alle vostre unghie creando una fascia che sembrerà un po in rilievo rispetto allo sfondo del colore dell'unghia punta quindi buon divertimento e buona visione lo sfondo deve essere di un colore chiaro qui ho usato color 102 e white lux poi con un blu un attimino più scuro mi traccio due linee alla distanza circa di 4 mm l'una dall'altra poi con il pennello flat 3 le sfumo sempre con metodo one stroke con la punta piano piano tiro la linea finché non si sfuma quindi creerò questa fascia che sembra rilievo rispetto allo sfondo e al termine blocco in lampa da 30 secondi con il bianco paint mi disegno la testina della volpe nascosta dietro la linea superiore so dipingo tutto di bianco e vado in lampada a 60 secondi poi prendo l'arancione che è formato sempre da electric red e yellow looks e dipingo le parti arancioni della volpe la testina lasciando un po' di baffetto bianco l'orecchietta alla parte superiore perché dopo voglio fare rosa all'interno il corpo lasciando il centro della pancia bianco così le lasciamo il pancino bianco qui facciamo un po' l'effetto peluria quindi facciamo dei piccoli trattini irregolari non un contorno con un'unica linea netta e la coda lasciando la punta bianca anche qui con uno stacco un po' a zig zag e alla fine blocchiamo in lampada a 60 secondi poi con il looks black facciamo i particolari neri molte volpi hanno le estremità nere quindi la punta delle orecchie e le zampine davanti e le zampine dietro e blocco in lampada per 30 secondi poi prendo il pastel pink looks e faccio i dettagli rosa quindi un po' all'interno delle orecchiette e i gommini i gommini i gommini hanno il puntino centrale come i gattini e le dittine e blocco in lampada 30 secondi poi per far esaltare la bestiolina faccio un leggerissimo contorno nero intorno a tutta la volpe e al termine blocco in lampada 30 secondi poi posso decorare la striscia dove pesa la volpina e un po' il contorno io qua ad esempio con il paint white faccio qualche fiorellino molto stilizzato e al termine bloccate in lampada e poi sigillate con un sigillante senza dispersione e dopo aver sigillato abbiamo terminato spero vi sia piaciuta e alla prossima ciao 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 ciao